80 nuovi prodotti di uso quotidiano firmati da grandi marche e talenti francesi. In occasione del Salone Internazionale del Mobile 2014, France Design presenta a Superstudio Più i principali interpreti della produzione creativa francese e a questo appuntamento non poteva mancare Nuova Twingo, la city car creativa e fun di Renault. Erede dello spirito innovativo di due icone Renault che hanno fatto la storia dell'automobile come la prima Twingo e la famosa R5, Renault reinventa il futuro ispirandosi al passato. Tanti sono i punti di forza della piccola francesina grazie all'architettura inedita con motore posteriore. Primo frattutto l'agilità con un diametro di stersata di 8,65 m. Tanto spazio interno con la possibilità di introdurre degli oggetti lunghi 2,20 m in una macchina che non fa più di 3,59 m oppure 52 litri di vani portai oggetti chiamati Flexi Cases appunto perché si possono adattare a ogni tipo di utilizzo. Infine tanta tanta visibilità, elemento indispensabile per districarsi nel caos cittadino grazie ad una seduta rialzata ed un'ampio parabrezza che offrono la miglior visibilità della categoria. Con il suo look fun Twingo si può trasformare in un vero e proprio abito su misura per il suo cliente grazie alle tante possibilità di personalizzazione. Colorata, divertente e anche un po' irriverente, Twingo è l'interpretazione moderna della cittadina che ha fatto la storia dell'auto ma anche la storia della Francia. Twingo a France Design per celebrare il ritorno della cittadina di Renault.